Progetto Brooklyn di Philip Klass. Legge Stefano Pedron. I globi risplendenti, incassati nel soffitto color crema, si smorzarono quando l'immensa porta circolare situata in fondo alla cabina si aprì. Ripresero il loro bianco, vivido splendore quando l'uomo paffuto che indossava un severo camiciotto nero chiuse di nuovo la porta dietro di sé facendo scattare la serratura. Dodici giornalisti d'entrambi i sessi esalarono fragorosamente il respiro quando l'uomo si avviò verso il davanti della cabina e voltò la schiena allo schermo translucido che ne occupava tutta la parte anteriore. Poi si alzarono tutti per rispettare l'abitudine di alzarsi in piedi tutte le volte che un funzionario governativo della sicurezza si trovava nella stanza. L'uomo ebbe un sorriso soddisfatto, li salutò con un cenno della mano e si grattò il naso con un fascio di fogli ciclo stilati. Il suo naso era grosso e rendeva, per così dire, ancora più presente la sua persona. «Sedetevi, signore e signori, sedetevi pure. Non c'è nessun cerimoniale inutile nel progetto Brooklyn. Io sono la vostra guida, si potrebbe dire, per l'intera durata di questo esperimento. Facente funzione di segretario del primo assistente del direttore per le relazioni con la stampa. Il mio nome non ha importanza. Per favore, fate circolare questi tra voi». Ciascuno dei presenti prese uno dei fogli ciclo stilati e passò gli altri ai compagni. Mettendosi comodi sui loro sedili metallici a forma di mezzo bidone delle immondizie si agitarono alquanto. Il loro anfitrione sbirciò attraverso il massiccio schermo, poi alzò lo sguardo all'orologio sulla parete che aveva una sola lancetta la quale girava lentamente. Batte quindi con giovialità la mano sul giubbotto nero laddove gli stava stretto sulla pancia. «Al lavoro, dunque! Fra qualche istante avrà inizio la prima escursione in grande stile dell'uomo attraverso il tempo. Non da parte di esseri umani in carne e ossa, ma grazie a un congegno di registrazione e fotografia che ci fornirà dati di una ricchezza incalcolabile sul passato». Con questo esperimento, il progetto Brooklyn giustifica 10 miliardi e più dollari e 8 anni di progressi scientifici. Dimostra la sua validità non soltanto di nuovo metodo di indagine, ma altresì come arma che renderà il nostro glorioso paese ancora più sicuro. Un'arma che i nostri nemici possono, con piena giustificazione, temere. Lasciate che vi metta in guardia. Non cercate di prendere appunti neppure se siete riusciti a contrabandare penne e matite nonostante i controlli della sicurezza. I vostri articoli dovranno essere scritti soltanto sulla base di ciò che la vostra memoria ricorderà. Siete tutti in possesso di una copia del codice di sicurezza con gli ultimi aggiornamenti, come pure di un opuscolo che si riferisce in modo specifico ai regolamenti del progetto Brooklyn. I fogli che avete appena ricevuto vi forniranno una guida per i vostri articoli. Contengono anche suggerimenti su come svilupparli e dar loro colore. Al di là di questo, fin tanto che vi manterrete nell'ambito dei documenti citati, siete completamente liberi di scrivere i vostri pezzi nel vostro stile più autentico e originale. La stampa, signore e signori, deve restare inviolata, incontaminata da ogni controllo governativo. Adesso, qualche domanda? I dodici giornalisti fissarono il pavimento. Cinque di loro cominciarono a leggere il foglio. La carta frusciava rumorosamente. Come? Nessuna domanda? Deve esserci certo più interesse di quanto ne mostrate per un progetto che ha violato l'ultima possibile frontiera. La quarta dimensione, il tempo. Su via adesso. Siete i rappresentanti ufficiali della curiosità dell'intera nazione. Dovete avere delle domande. Bradley, lei mi pare dubbioso. Cosa la tormenta? Le assicuro, Bradley, che non mordo. Scoppiarono tutti a ridere e si scambiarono cordiali sugghigni. Bradley si alzò a metà della sedia a tubo e indicò lo schermo. Perché deve essere così spesso? Non sono per niente interessato a scoprire come funziona il Kroner, ma tutto quello che possiamo vedere qui è l'immagine grigia e confusa di uomini che si trascinano dietro delle apparecchiature. E perché l'orologio ha una sola lancetta? Una buona domanda, dichiarò il facente funzione di segretario. Il suo grosso naso parve ardere. Una buonissima domanda. Per prima cosa, l'orologio ha una sola lancetta perché, dopo tutto, Bradley, questo è un esperimento col tempo. E la sicurezza pensa che l'ora stessa dell'esperimento possa, grazie a qualche sfortunata fuga di informazioni e correlazioni con l'estero. Per farla breve, è inutile esibire un indizio in più se è possibile farne a meno. È sufficiente sapere che quando la lancetta indicherà il punto rosso, l'esperimento avrà inizio. Lo schermo è traslucido e la scena offuscata per la stessa ragione. Mimetizzazione d'ogni particolare. Io sono autorizzato a informarvi che i particolari dell'apparecchiatura sono, sì, troppo rivelatori. Qualche altra domanda? Culpepper. Culpepper della Consolidated, vero? Sì, signore, la Consolidated News Service. I nostri lettori sono molto curiosi di sapere qualcosa su quell'incidente avvenuto alla Federazione degli Scienziati del Kroner. Naturalmente non provano nessuna pietà né rispetto per loro, visto come si sono comportati e tutto il resto. Ma cosa intendevano dire, affermando che questo esperimento era pericoloso a causa dell'insufficienza dei dati? E quell'individuo, il dottor Shison, il loro presidente? Lei sa se verrà fucilato. L'uomo in nero si tormentò il naso, poi li fissò meditabondo. Infine disse. Devo confessare che io ritengo le opinioni della Federazione degli Scienziati del Kroner o della Federazione dei Piagnoni Cronici, come preferiamo chiamarli noi a Pikes Peak, un po' troppo stravaganti per i miei gusti. In ogni caso, mi preoccupo raramente di valutare le opinioni d'un traditore. Shison potrebbe o non potrebbe essere passibile della pena di morte per aver rivelato la natura del lavoro che gli era stato affidato. D'altro canto, potrebbe... già, potrebbe averlo o non averlo fatto. Questo è tutto ciò che posso dire su di lui per motivi di sicurezza. Motivi di sicurezza. Nell'udire quella temuta frase, ogni giornalista si era raddrizzato contro lo schienale della sua sedia. Il volto di Culpepper aveva perso il suo colore roseo in favore di un bianco vitreo. Non possono considerare tendenziosa la mia domanda sulla parte avuta da Shison, pensò disperatamente. Ma non avrei dovuto fare una battuta su quella dannata federazione. Culpepper abbassò gli occhi e cercò di provare quanta più vergogna poteva per quei malvagi idioti. sperò che il facente funzione di segretario all'assistente del direttore per le relazioni con la stampa notasse il suo errore. L'orologio cominciò a attichettare sonoramente. Adesso la sua lancetta si trovava solo a un quarto di circonferenza dal punto rosso in cima. Giù, nell'immenso laboratorio, ogni attività era cessata. Tutti quegli uomini che apparivano tanto minuscoli si erano raccolti intorno a due grandi sfere di metallo lucicante addossate l'una all'altra. La maggior parte di loro teneva d'occhio quadranti e interruttori. Alcuni, completato ormai il loro compito, chiacchieravano con le guardie della sicurezza dai camicioni neri che formavano un cerchio intorno a loro. Siamo quasi pronti ad iniziare l'operazione periscopio. Operazione periscopio, naturalmente, già che in un certo senso stiamo per protendere un periscopio nel passato. Un periscopio che scatterà fotografie e registrerà avvenimenti di differenti periodi i quali vanno da 15.000 a 4 miliardi di anni fa. Pensavamo che, viste le varie circostanze critiche che hanno accompagnato questo esperimento, internazionali, scientifiche, un nome più adatto sarebbe stato Operazioni Incroci. Sfortunatamente, quel nome sembra… sì, svuotato. Tutti si sforzarono di mostrare una completa ignoranza della natura di quell'altro esperimento, nei limiti concessi dagli anni trascorsi a fissare gli scaffali delle biblioteche chiusi a chiave. Non ha importanza. Ora vi riassumerò tutto ciò che concerne il funzionamento del Croner per quella parte che ha ottenuto il nulla osta della sicurezza del progetto Brooklyn. Sì, Bradley. Bradley si era nuovamente alzato a metà della sua sedia a tubo. Mi stavo chiedendo. Sappiamo che c'è stato un progetto Manhattan, un progetto Long Island, un progetto Westchester e adesso un progetto Brooklyn. C'è mai stato un progetto Bronx? Io vengo dal Bronx, sa, orgoglio civico. Certo, molto comprensibile. Tuttavia, se esiste un progetto Bronx, può star sicuro che finché non sarà completato con successo, gli unici individui a conoscerne l'esistenza al di fuori di esso sono il presidente e il segretario della sicurezza. Se, se, ho detto, una tale istituzione esiste, il mondo lo verrà a sapere con la stessa dirompente repentinità con cui ha preso l'esistenza del progetto Westchester. Quello non credo che il mondo lo dimenticherà tanto presto. Ridacchiò a quel ricordo e Culpepper gli fece eco un po' più forte degli altri. La lancetta dell'orologio era ormai vicinissima al punto rosso. Sì, il progetto Westchester è adesso questo. La nostra nazione sarà al sicuro. Vi rendete conto di quale splendida arma il Croner pone nelle nostre democratiche mani? Per esaminare un solo aspetto della questione. Pensate a cosa è accaduto ai sottoprogetti Coney Island e Flatbush. Gli avvenimenti sono citati nei fogli che avete appena ricevuto prima che gli usi del Croner venissero del tutto compresi. Durante quei primi esperimenti non si sapeva ancora che la terza legge del moto di Newton, azione uguale a reazione, valeva per il tempo proprio come per le altre tre dimensioni dello spazio. Quando il primo Croner fu eccitato e inviato indietro nel tempo per un tratto d'un nono di secondo, l'intero laboratorio fu propulso nel futuro per un identico tratto tornando indietro in condizioni irriconoscibili. Proprio questo fatto, detto per inciso, ha impedito le escursioni nel futuro. L'equipaggiamento pare soffrire di stupefacenti alterazioni e nessun essere umano potrebbe sopravvivervi. Ma vi rendete conto di che cosa potremmo fare a un nemico semplicemente usando questa proprietà? Mandare una massa adeguata di Croner nel passato mentre è adiacente a una nazione ostile trascinerebbe a forza quella nazione nel futuro simultaneamente, un futuro dal quale tornerebbe popolata solo di cadaveri. Abbassò lo sguardo, portò le mani dietro la schiena ed ondolò sui tacchi. È per questo che vedete quelle due sfere laggiù sul pavimento del laboratorio. Soltanto una di esse, quella a destra, è munita del Croner. L'altra è finta. Uguaglia in modo esattissimo la massa della prima e serve a controbilanciarla. Quando il Croner verrà eccitato, si tufferà nel nostro passato di 4 miliardi di anni fa e fotograferà la Terra che era ancora una massa semifusa e in parte gassosa, in atto di solidificarsi rapidamente in un sistema solare ancora primordiale e formato soltanto a metà. Nello stesso istante, la sfera finta verrà proiettata per 4 miliardi di anni nel futuro, dal quale tornerà cambiata per ragioni che non comprendiamo del tutto. Si urteranno tra loro nel punto che per noi è l'adesso e rimbalzeranno di nuovo fino a una distanza cronologica che sarà all'incirca la metà di quella del primo viaggio, dove il nostro Croner registrerà i dati di un pianeta ormai solido ma ancora tormentato da terremoti e ospitante, forse, forme subviventi di certe complesse molecole. Dopo ogni collisione, il Croner tornerà indietro pressa poco della metà degli anni coperti nel balzo precedente e tutte le volte raccoglierà automaticamente informazioni. I periodi storici e geologici che ci aspettiamo che tocchi sono elencati da primo a venticinquesimo sui vostri fogli. Saranno più di venticinque, naturalmente, prima che entrambe le sfere tornino in posizione di riposo, ma gli scienziati ritengono che tutti i periodi dopo il venticinquesimo saranno toccati per un periodo di tempo così breve da non poter produrre né fotografie né altre documentazioni. Ricordatevi che alla fine le sfere compiranno poco più di minime vibrazioni sul posto prima di tornare in completo riposo, cosicché, malgrado si tratti di rimbalzi di secoli su entrambi lati del nostro presente, il fenomeno sarà quasi inavvertibile. Vedo che c'è una domanda. La donna magra, in abito grigio di tweet accanto a Culpepper, si era alzata in piedi. «Io... io so che è irrilevante!» Cominciò. «Ma non sono stata in grado di introdurre la mia domanda in nessun momento pertinente della discussione. Signor segretario, facente funzione!» L'interruppe in tono cordiale l'uomo paffuto dal giubbotto nero. «Sono soltanto il segretario facente funzione!» Continui pure. «Sì, volevo dire, signor segretario, esiste un qualche modo perché il nostro tempo di controllo post-esperimentale venga ridotto. È troppo dover passare due anni all'interno di Pikes Peak soltanto per il timore che uno di noi possa aver visto abbastanza da comportarsi in maniera poco patriottica al punto d'essere pericoloso per la nazione. Una volta che i nostri articoli abbiano passato la censura, mi sembra che potrebbe esserci consentito di tornare alle nostre case dopo un periodo di sicurezza, diciamo, di tre mesi. Io ho due bambini e ci sono altri qui che...» «Parli per sé, signora Bryant», tuonò l'uomo della sicurezza. «Lei è la signora Bryant, non è vero?» «La signora Bryant del Women's Magazine Syndicate!» «La signora Alexis Bryant!» parve prendere piccoli appunti a matita nel suo cervello. La signora Bryant tornò a sedersi accanto a Culpepper, stringendo al petto la sua copia del codice di sicurezza emendato, lo speciale opuscolo del progetto Brooklyn e il sottile ciclo stilato. Culpepper si scostò ostentatamente quanto più possibile da lei. Perché dovevano capitare tutte a lui? Poi, per peggiorare ancora più le cose, quella pazza donna si mise a guardarlo con le lacrime agli occhi, come a chiedergli compassione. Culpepper guardò il lato opposto della cabina e incrociò le gambe. «Dovete rimanere sotto la giurisdizione del progetto Brooklyn, perché è questo il solo modo col quale la sicurezza può essere certa che non ci saranno fughe di informazioni importanti prima che l'apparato abbia subito cambiamenti tali da risultare irriconoscibile rispetto a quello attuale. Lei non è stata obbligata a venire, signora Bryant. Si è offerta volontaria. Tutti vi siete offerti volontari. Dopo che i vostri direttori vi avevano designati come loro personale scelta per coprire questo esperimento, avevate pur sempre quel peculiare, democratico privilegio di rifiutarvi. Nessuno di voi l'ha fatto. Avete riconosciuto che rifiutare questo insolito onore vi avrebbe rivelato incapaci di pensare in termini di sicurezza nazionale. In effetti avrebbe implicato una critica del codice di sicurezza stesso sulla base dei soliti due anni di controllo. E adesso questo? Per qualcuno che fino ad ora era stato giudicato capace e fidato come lei, signora Bryant saltar fuori così tardi con una richiesta del genere mi fa... La voce dell'uomo grassoccio si ridusse a un bisbiglio. Mi fa quasi dubitare dell'efficacia dei nostri sistemi di sicurezza per vagliare i candidati. Culpepper annui energicamente in un gesto di rabbiosa conferma rivolto alla signora Bryant, la quale si stava mordendo le labbra e cercava di mostrare un enorme interesse nelle attività che si stavano svolgendo là, nel laboratorio. La domanda era irrilevante, molto irrilevante. Ha occupato del tempo che intendevo dedicare a una discussione più dettagliata degli aspetti più popolari del Croner, dei suoi possibili usi nell'industria. Ma la signora Bryant deve avere i suoi piccoli sfoghi femminili. Non fa nessuna differenza per la signora Bryant che la nostra nazione sia di giorno in giorno sempre più circondata da un'ostilità crescente e da pericoli sempre maggiori. Queste cose non hanno la minima importanza per la signora Bryant. Tutto quello che la preoccupa sono i due anni della sua vita ai quali il paese le chiede di rinunciare, cosicché il futuro dei suoi stessi figli sia più sicuro. Il facente funzione di segretario si lisciò il giubbotto nero e divenne più calmo. La tensione all'interno della cabina decrebbe. Adesso l'attivazione potrà avvenire in qualunque momento, perciò descriverò brevemente i periodi più interessanti che il Croner registrerà per noi e dai quali ci aspettiamo di ricevere i dati più utili. Il primo e il secondo, naturalmente, poiché sono i periodi durante i quali la Terra stava assumendo la sua forma attuale. Poi il terzo, il periodo precambriano del proterozoico, un miliardo di anni fa. La prima era nella quale troviamo riconoscibili tracce di vita, per la maggior parte crostacei e alghe. Il sesto, 125 milioni nel passato, copre il giurassico medio del mesozoico. Questa escursione dentro la cosiddetta età dei rettili potrebbe fornirci fotografie dei dinosauri e risolvere l'antico enigma della loro colorazione, come pure le fotografie, se saremo fortunati, della prima comparsa dei mammiferi e degli uccelli. Infine, l'ottavo e il nono, l'oligocene e il miocene del periodo terziario, che sono contrassegnati dall'apparizione dei primi antenati dell'uomo. Sfortunatamente, il Croner oscillerà avanti e indietro tanto rapidamente a quelle epoche che la possibilità ad una decente registrazione e che già un gong, la lancetta dell'orologio, toccò il punto rosso. Cinque dei tecnici, là nel laboratorio, fecero scattare degli interruttori e quasi prima che i giornalisti potessero sporgersi in avanti, le due sfere non erano più visibili attraverso il massiccio schermo di plastica. Al loro posto c'era il vuoto. Il Croner ha incominciato il suo viaggio verso i quattro miliardi di anni nel passato. Signore e signori, è un momento storico. Intimamente, essenzialmente storico. Non farà ritorno per un po'. Userò questo tempo per mettere in evidenza e svelare in ogni particolare gli errori della... ah, della Federazione dei Piagnoni Cronici. Una risata nervosa si propagò fino al facente funzione di segretario all'assistente del direttore delle relazioni con la stampa. I dodici giornalisti si prepararono ad ascoltare il modo in cui quell'idea ridicola sarebbe stata fatta a brani. Come sapete, uno dei timori coltivati circa ai viaggi nel passato era che gli atti all'apparenza più innocenti avrebbero causato cambiamenti catastrofici nel presente. È probabile che questa fantasticheria vi sia familiare nella sua forma più popolare. Se Hitler fosse stato ucciso nel 1930, non avrebbe costretto gli scienziati tedeschi e più tardi quelli dei paesi occupati ad emigrare. Perciò questa nostra nazione avrebbe potuto non avere la bomba atomica, così non ci sarebbe stata nessuna terza guerra mondiale e l'Australia emergerebbe ancora dalle acque del Pacifico. Il traditore Shison e la sua illegale federazione hanno ampliato questa ipotesi fino a comprendervi atti assai meno rilevanti come, ad esempio, quello di spostare una singola molecola di idrogeno che nel nostro passato non era mai stata in realtà spostata. All'epoca del primo esperimento con il sottoprogetto Coney Island, quando il Croner fu mandato indietro nel passato per un nono di secondo, una dozzina di differenti laboratori hanno controllato per mezzo di una congeri d'ogni immaginabile tipo di congegni alla ricerca con accuratezza estrema di qualunque concepibile cambiamento. Ma non ce n'era stato alcuno. I funzionari del governo conclusero che il flusso del tempo è una cosa rigida. Passato, presente e futuro non possono venire in nessun modo alterati. Ma Shison e la sua corte non erano soddisfatti. E sì! Primo. Quattro miliardi di anni fa. Il Croner galleggiò in una nuvoletta d'ossido di silicio sopra la terra ribollente e raccolse torpidamente i suoi dati con gli strumenti che funzionavano in maniera automatica. Il vapore che si era condensato su di esso ricadde in grandi gocce luccicanti. Insistevano a dire che non avremmo dovuto fare nessun ulteriore esperimento fino a quando non avessimo controllato di nuovo gli aspetti matematici del problema. Giunsero a dichiarare che era possibile che, se fossero avvenuti dei cambiamenti, noi non li avremmo notati, che nessuno strumento immaginabile sarebbe stato in grado di individuarli. Dissero che avremmo accettato questi cambiamenti come cose esistenti da sempre. Bene. E tutto questo in un'epoca in cui il nostro paese e anche il loro signori e signori della stampa si trovava più che mai in un grande pericolo. Riuscite a... Le parole gli mancarono. Camminò su e giù per la cabina scuotendo la testa. Tutti i giornalisti sulla lunga panca di legno scossero la testa insieme a lui in segno di comprensione. Si udì un altro colpo di gong. Le due sfere opacche comparvero per un breve istante, cozzarono l'una contro l'altra e rimbalzarono via in opposte direzioni cronologiche. Ecco. Il funzionario governativo agitò le braccia in direzione del pavimento trasparente del laboratorio sopra di loro. La prima oscillazione è stata completata. È cambiato qualcosa. Tutto non è forse come prima. Ma i dissidenti sosterrebbero che si sono verificate delle alterazioni e noi non le abbiamo notate. Con punti di vista così poco scientifici, basati soltanto sulla fede, non si può discutere. Gente come questa... Secondo. Due miliardi di anni fa. Il grande globo scattò le sue fotografie e della sottostante distesa di vulcani in eruzione. Alcune croste rossoroventi sbattacchiarono sui suoi fianchi e ricaddero. Cinque o seimila molecole complesse persero la loro struttura fondamentale quando sbatterono contro il globo. Un centinaio non la persero. È disposta a sgubbare trenta ore al giorno su trentatré per convincervi che il nero non è bianco, che abbiamo sette lune invece di due. Sono particolarmente pericolosi. Una lunga sorda nota musicale mentre l'apparato entrava in collisione su se stesso. Le calde luci arancione agli angoli divennero più intense quando ripartì. A causa del loro grado di cultura, perché la gente conta su di loro per trovare modi migliori per vegetare. Adesso il funzionario governativo stava scivolando su e giù rapidamente, gesticolando con tutti i suoi pseudopodi. Al momento ci troviamo a dover fronteggiare un problema molto difficile. Terzo, un miliardo di anni fa. Il primitivo trilobite che la macchina aveva schiacciato e fatto a pezzi quando si era materializzata cominciò lentamente a fluttuare verso il fondo. Un problema molto difficile. Questa è la domanda che ora ci si pone. Dobbiamo schluck o non dobbiamo schluck? Adesso non stava più parlando inglese. In effetti da un po' non stava affatto parlando. Formulava i suoi pensieri sbattendo un pseudopodo contro l'altro, come aveva sempre fatto. Quarto, mezzo miliardo di anni fa. Molti tipi diversi di batteri morirono quando l'acqua cambiò leggermente temperatura. Questo dunque non è il momento delle mezze misure. Se potremo sporificare quanto è necessario per... Quinto, 250 milioni di anni fa. Sesto, 125 milioni di anni fa. Soddisfare il 5 che spiraleggia, abbiamo... Settimo, 72 milioni di anni fa. Ottavo, 31 milioni. Nono, 15 milioni. Decimo, 7 milioni e mezzo. Salvaguardato tutte le virtù possibili. Poi, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo. Bong, 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 bong. Saremo davvero pronti per la rifrazione. E questo, vi dico, è più che sufficiente per quelli che ondeggiano e quelli che azzannano. Ma di quelli che ondeggiano verrà come al solito dimostrato il torto, giacché nella zannata c'è la rotolata, e la rotolata è la sola verità. Non hanno bisogno di cambiare soltanto a causa delle ciglia inzuppate. L'apparato si è finalmente fermato nel trasportatore frazionale. Vogliamo visionarlo sottilmente? Furono tutti d'accordo e i loro corpi gonfi e porpurei si dissolsero diventando liquidi e scorsero sopra e tutto intorno all'apparato. Quando raggiunsero i suoi quattro blocchi quadrati che non stridevano più meccanicamente, si risollevarono, si riaddensarono e riacquistarono la loro forma fluidamente melmosa. Vedete? gridò la cosa che era stata il facente di segretario dell'assistente del direttore per le relazioni con la stampa. Vedete, non importa quanto sottilmente. Quelli che ondeggiano si sbagliavano. Non siamo cambiati. Con un gesto di trionfo indicò le dodici bolle porpuree. Non è cambiato proprio niente. Niente.